Le ricerche qui è venuto il nonno perché guardi mi sono affacciata, io abito qua sopra, mi sono affacciata e vedevo che l'acqua si alzava, si alzava e nulla. Poi è venuto il nonno qua a piedi, è venuto qui e cercavamo di poterla luitare, anche con i miei vicini di casa che stanno qua di sotto, però no, con l'acqua defluiva, rientrava però non si poteva nemmeno andare anche sotto il fiume. Grazie.